L'unica cosa che conta del tuo viaggio, è il viaggio stesso, la strada di percorrere. Quello di percorrere è di capire chi sei veramente. Prova, prova a guardarti allo spazio, non fermarti all'apparenza, vai in ordre, guarda più a fondo. Che cosa sto a guardare? 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti